E ragazzi, come va? Io sono Fereniki E io sono Steph, e qui si chiama Roblo E siamo tornati su Bloxtant Dato che lo scorso episodio che abbiamo fatto vi è piaciuto tantissimo Quindi abbiamo deciso di farne subitissimo un altro E' arrivato tipo a 30.000 visualizzazioni davvero in tempo record Incredibile! Vi piace un sacco, oggi quale sarà l'obiettivo? Oggi l'obiettivo sarà vincere quando dobbiamo trovare le persone Perché la scorsa volta ci siamo nati vicini Ma non ce l'abbiamo fatta Io sono questo libro qua, guarda, sembro nato in questa posizione Nessuno può capire che io mi sono messo qua Spettacular, bellissimo Perché io e questa scrivania siamo un tutt'uno Salve signorino Sono nella stanza a fianco ma lei noterà soltanto quella scatola che sta impazzendo Che sta scappando No No Ti becca, ti becca Sono messo talmente bene che ha controllato il computer, la piantina E com'è, neanche ci ha fatto Non ce l'è neanche immaginato, proprio neanche alla lontana No, questo libro è proprio perfetto Qua non ci può essere, nessuno è nascosto E ovviamente vincono quelli che si sono nascosti Mamma mia, finalmente non siamo più dei tacchini Quindi guardate che bellino che sono col cappello da mago Io e il cappello da strega E lei e il cappello da strega Siamo abbinati, siamo carinissimi Eh, ti do un pugno in faccia Vieni qua Vieni qua, lì tigore Posso prendere la statuetta? Sì, bene, bene, bene Tu cosa vuoi diventare? Come te Una statuetta? Dove l'hai presa la statuetta? È lì nella vetrina Ah, da qui, eccola Veloce, veloce che tardi Eccola Tra 13 secondi arrivano, corri Ma quale sei tu, perché ce ne sono Quello che salta Ok, ok Allora Facciamo qualcosa di combinato Tipo? Ok, cerchiamo di nasconderci sempre in modo combinato Perché così rendiamo più divertente Abbiamo fatto una pessima scelta Ma dai, è terribile stare qua come statuetta Abbiamo fatto una terribile scelta Scappa 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 Allora, cosa ci facciamo? Scegli qualcosa, muoviti prima che arrivano Io sono dentro la porta Libri Libri Una sedia Fai, diventa un tavolo Ok 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 Ah, ok, no Io mi sono sistemato da solo Ma sei disgraziato la pianta Lì però manca un tavolo Guarda Dove? Non so se sia una sedia da sola Lo vedi? Hai ragione Lì manca un tavolo E se diventi il tavolo e vai lì? Eh, ho paura che arrivi qualcuno Che dici? È pericoloso È pericoloso Ci provo, ci provo Perché mi piace fare le cose un po' rischiose In sto gioco No, no Se ti incasteri è un problema Aspetta È difficilissimo mettersi dritti Ma come fai? Vai, ce la puoi fare Forza Feri e Niki Ci prova Ci prova Ti ho sbilanciato Ma mi fai muovere? No Fermo? No Fermo? Io sono fermo, eh Sei tu che ti muovi No, io sono Guarda È perché ti sbilancio Peso troppo È un problema Eh sì, mi stai spostando tantissimo Hai distrutto il mio Nascondiglio perfetto Il mio perfetto tavolo Sì, ma quelli che devono beccare la gente Cosa stanno facendo, no? Perché Secondo me nulla Sono FK Sì Ma no Già Noi due ore che ci stavamo impegnando lì Per nasconderci in qualche modo Aspetta che ci vado Vieni a fare i taunt Che così ti fai i sodini Mi faccio punti Mi faccio punti Quindi mi sembra giusto Ciao belli È un'ottima postazione Guarda io Sono al tavolo Non ci stai Sei troppo grande Renditi Non è vero Guarda Adesso lo uccidi in qualche modo strano Aspetta io salgo sopra di te invece Facciamo una scultura Facciamo una torre Sì una torre Vai Oh no Ce la possiamo No ce la possiamo fare Levati se no non posso saltare Ok Dai ce la possiamo fare Allora Il problema è che non sta fermo Eh lo so Ok abbiamo vinto Abbiamo vinto Bravissimi Bravi Tutti bravi Tutti bravi Vinciamo Che poi ovviamente stiamo registrando di sabato mattina E sono quasi tutti i consolini E indovina chi è rosso Oh Finalmente uno dei due Finalmente Ma voglio diventare anch'io Mi trovi subito No 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 Mi diverto sempre a trovarti Ok È la parte più divertente di questo gioco Trovarti Non è giusto Nasconditi bene che arriva a prenderti Ehm Dove mi metto Vediamo un pochettino Dove si mette Non si sa che mappa è Quella delle casette Quella Quella delle casette Sì Dove ci sono i cespugli Sì esatto Ok Ok mi piace quella mappa Ce la possiamo fare L'importante è che non sia quella del campeggio Che è davvero troppo grande Quella è super complicata Hai 5 secondi Eh no no Minima La minima di che cosa fare 2 1 Ci siamo Oh cavolo Oh cavolo Steph sta arrivando Allora 1 2 3 Ti dico solo che ci sono Tipo 3 blu Totalmente FK Che poi però non posso colpire Ma cosa sta succedendo? Praticamente mi hanno seguito Metà dei consolini E ci siamo trasformati tutti Nella stessa cosa Penso che siamo Un po' un disastro Ok Perché siamo tutti uguali Non è una bella cosa Direi Non è una bella cosa Perché è facile essere scoperti A me nelle queste tazze Non convinceva Invece sì era tutto ok Il letto qua va bene Dietro la porta non c'è niente nessuno Questo cestino Ok Era normale Siamo in quattro a cercare Ma sono l'unico che sta giocando Io non capisco Perché in questa mappa Stanno sempre tutti FK Forse non piace cercare Però vedete se vinci Almeno avrei la gloria Credo di aver trovato dove siete Perché sinceramente Qua c'è qualcosa che non va E infatti questa persona Non so se sei tu Ma qualcuno è Mi ha fatto cadere Ma eri tu? Mi ha buttato giù no Ok Non mi hai ancora trovato Allora padella Disgraziato Non è giusto Questo è perché si sono trasformati tutti come me Non vale Signorina Non vale Dammi la mano Dammi la mano Ah no vabbè 10 secondi Comunque guarda Che ne mancavano solo due E io era da solo Mi mancavano solo due E io era da solo Non vorrei dire Ma sono stata abbastanza brava Hai fatto un ottimo lavoro Sì Dai ultimo lavoro Sì 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 Però guarda sono arrabbiatissima Perché non si deve stare FK Quando si gioca a nascondino No assolutamente Terribile Facciamo una legge Che chi sta FK Quando si gioca a nascondino Viene preso a calci da Ferenichi Esatto Mi sembra perfetta Mi sembra la cosa Mi sembra perfetta Il minimo Mi sembra perfetta Mi sembra proprio il minimo Assolutamente Secondo me Nessuno se lo aspetta qua Dici Sì così Ma non possiamo Ma adesso Diventiamo tutti delle scatole Sembra proprio un ammasso di scatole Ah io mi metto un po' sopra Tutti fermi Dai ragazzi Tutti fermi qua E ce la possiamo fare No se uno sta sopra Ci muoviamo Ma Si vede lontano un miglio Che siamo parli occhi No 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 Sembra una zona di scatole Però devono stare immobili Dovete stare immobili Fermi Fermi Se ci beccano Ragazzi è la fine Allora Se ci beccano Ognuno per sé Corriamo tutti verso Lati diversi E chi si è visto si è visto Sì esatto E si riesce a trasformare Ci stiamo muovendo Dovete scendere Non dobbiamo stare Uno sopra l'altro Fermi No Non ce la fanno Non ce la fanno Non ce la fanno Sta fermi Scappa 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 Ti dico solo Che siamo rimasti in tre Io Te E sicuramente Un consolino Quindi Concentrata Mi raccomando Perché possiamo farcela Però non è per niente semplice Adesso viene qua E mi becca Qualcuno sta venendo da me Qualcuno sta venendo da me Aiuto Ti prego Becca l'altro Aiuto L'ha beccato L'ha beccato L'ha beccato Lo stai seguendo A me non mi ha visto E io ero nascosto davvero bene Ci siamo rimasti solo io e te E mi sta proprio Non è una buona cosa Lo sai E abbiamo vinto Abbiamo vinto Non so chi tu sia Ma io ero qua Yeah Esci fuori Salta Yeah Che bello Che bello Ce l'abbiamo fatto Questo era difficile Perché i cercatori Erano diventati davvero davvero tanti E riuscire a vincere Non era per vincere Bisogna dire però Che eravamo nella mappa giusta Per vincere Perché quella mappa È proprio complicata E non c'è niente da fare Ma siamo stati bravi Siamo stati bravi Siamo stati bravi Abbiamo avuto fortuna Senza di te Io voglio essere un cannone Allora Non so se puoi essere un cannone Voglio essere un cannone Una bomba Non puoi essere un cannone Allora ascoltami Sono una palla No In questa mappa Non ascolto niente e nessuno Io sono una palla di cannone Posizionata qua Pronto per esplodere No Ragazzi Ragazzi Non è plausibile No no Lasciatemi in pace Diventa Io ho fatto una palla di cannone Spero che nessuno mi veda Perché altrimenti diventiamo 15 palle di cannone Ahà Ok Io mi sono messa nella mia posizione Sto qui ferma E speriamo per il meglio Ci sono tanti oggetti Ma è davvero molto piccola Io questa ad esempio È la mappa in cui ho visto Di più i cercatori vincere Quindi sarà dura Sì Sì Ok Ogni volta che mi è capitato I cercatori hanno vinto Non scherzo E sono già in quattro Da quel che vedo Esatto Perché è molto piccola Attenzione Due minuti Qua bisogna tirare Un'altra vittoria incredibile Io non sono soddisfatto Del mio nascondiglio Mi piaceva di più Quello che avevo fatto all'inizio Ma sono dovuto andare via Perché avevamo diventati 15 palle di cannone E non era molto plausibile Diciamo Era assolutamente no Quindi sono scappato Mi sono trasformato 2000 cose Allora le palle di cannone Sono quasi sempre due Ho trovato un punto In cui ce n'era solo una Quindi ho fatto la seconda E penso che sia plausibile Io ho fatto così Capito Ho fatto la stessa identica cosa Anche io Facciamo finta di essere Un container di lampade Anche se qua Non ce n'era nemmeno una Visto che siamo tantissimi Vediamo se funziona Ma lo prendiamo un container vuoto Piuttosto che uno già pieno Giustamente Fermi però Immobili E adesso lo capisce Aspetta Aspetta Pronto a scappare È svenuto Sì direi che ormai ha capito Andiamo via 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 Non l'aveva capito all'inizio Aveva funzionato Seguimi Seguimi Sono quello che salta E no troppi saltano Mi vedi? E mi stanno prendendo però Corri 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 Ma sei questa? Sì 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 Ok Dribla scappa Faglio un dribbling Confondili Musiche Io sono qui mobile Sperando che non mi becchino Perché non so che cavolo fare Altrimenti Ah ho finito l'energia Non è possibile Zico zacco Zico zacco La persona assieme a me Per fortuna non è fk E ho già visto una persona muoversi Allora vieni qua Bel focherello Ho visto anche un cestino Due cestini Tre cestini Ok Allora uno Tata Trasformami ti prego Allora Ma sei tu? Ma questa Questa che salta Cioè non fammi Seguono tutti Questa Questa girati E io sto pensando a questo Sennò poi questo mi scappa Stai ferma E ma poi ti aiuto io Trasformami E lo so ma tutti questi Stai scherzando Tanto ti posso trasformare Poi dopo Un attimo Ma dove scappa questo? No comunque Non ce la fa nessuno Ecco finalmente Finalmente Dai che ti aiuto Ok Ho deciso che faremo I cercatori assieme Dai Dobbiamo vincere Anche se in questa mappa Non è facile Dobbiamo vincere Appunto per quello Cioè ho voluto che mi trasformassi Perché voglio vincere in questa mappa Sei contro sei Sei contro sei Allora Dove sei? Quale sei? Sei fatto apposta? Che cosa? Sei contro sei Dove sei? No non l'ho fatta apposta Tico La verità Allora Qui secondo me non c'è nessuno Qua non c'è nessuno No non c'è nessuno Vieni qua 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 Secondo me c'è troppa roba Ok ok ti seguo ti seguo Vediamo Allora Allora La tazza La lampada A me qualcosa qui non mi convince Il fuoco È giusto No no il fuoco È il fuoco È il fuoco che sta scappando Forza ragazzi Era perfetto Era fighissimo Yes Sette Era fighissimo come l'ho messo Sette Sette Allora sto sgabello non mi convince No invece era giusto Quella lampada Quella lampada prendetelo immediatamente È nascosta al buio Eccola Oh mamma mia Sta saltando Prendetela Non fa prenderla in minuscola Cioè ti dico la verità Non fa prenderla C'è pure un cestino Ha fatto trovare il cestino Aspetta Dov'è il cestino? Sotto l'albero Aiuto Non ci sta capendo più nulla La vedi questo cestino? No Perché non so dove sei tu Ok fatto 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 La lampada l'hanno fatta? Sì 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 Credo di sì Se ci sei controlla queste cose Le tazze secondo me qualcuno è farlocca Ne sono quasi sicura Anche a me non convincono Niente? No Cinque secondi E ne mancano due Niente non ce la facciamo Ogni volta per un soffio non riusciamo a vincere come Seekers Peccato 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 Che delusione Sì 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 Ci speravo perché mancava davvero un tanto così e speravo che ce la facessimo Siamo partiti bene Siamo partiti bene Ne abbiamo trovato diversi nascosti in modo interessante Sì 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 Però poi gli ultimi due è proprio niente Guarda sinceramente secondo me erano nascosti da qualche parte all'ombra Finalmente Le mie preghiere sono state ascoltate Accidenti Sono un cercatore Sono un cercatore Ok Ok Allora Sono proprio curiosa Allora non devo guardare il tuo monitor mi devo riguardare Non guardarlo perché altrimenti sarebbe come barare Invece voglio vincere Voglio vincere Stai trovando un bel nascondiglio? Beh per ora sto pensando a Diciamo A nascondermi dai consolini A togliere il plotone Sì 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 Poi dopo che mi nascondo dai consolini mi nascondo da te Fin Lo voglio scrivere anche in chat Allora Finalmente Dato che devo aspettare 30 secondi almeno ci passo il tempo Ok Arrivo 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 un secondo e tocca a me Dove sarai? Aiuto Allora questo secondo me no Aiuto No no Allora Questo Dove sei? Dimmi se sono almeno nella tua stanza Assolutamente non ti darò nessun tipo di indizio Ma non è giusto Perché Ferinichi non mi deve trovare Concentrata Ce la puoi fare io credo in te Ce la puoi fare Poi sinceramente non mi ricordo le stanze che ho già visto Quella è la cosa peggiore Che non ho visto Quindi è davvero complicato Era troppo concentrata Vedete il suo sguardo Si è autoproiettato Oh mamma mia c'è persone davanti Facciamo finta di nulla Buongiorno Buongiorno Allora tu sei in questa stanza Questo si è mosso Prendilo Prendilo Allora tu sei qui da qualche parte No Qual eri? Ero l'altro Il microscopio Dall'altra parte Sono stato beccato perché Non so chi ha deciso di nascondersi uguale a me Però peggio Era fattibile Era davvero fattibile Quindi Solo che nel momento che capisci che uno è finto È finto pure l'altro Eh esatto Esatto Mi rovinano tutti i nascondigli Non abbiamo vinto Però abbiamo compiuto il miracolo Di farti giocare a te come trovatore Cercatore Come lo vogliamo chiamare Quindi Una cosa siamo riusciti a farla Comunque Ci fermiamo così per questo video Speriamo che vi sia piaciuto È stato divertente Cercare di fare qualche nascondiglio In massa Purtroppo è difficile Combinarsi tutti E quindi stare tutti fermi Però almeno il tentativo Mi è piaciuto Quindi mi sono divertito un sacco E niente Ci fermiamo così Bene che ci succede Scusate 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 E se è la prima volta Che vedete i nostri video Potete considerare l'idea Di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao Alla prossima Ciao Ciao